Siamo a Villa Pallavicino, a Stresa, sul Lago Maggiore. Qui abbiamo 50 specie animali, animali esotici, domestici. Abbiamo a disposizione delle strutture per alcuni animali che vengono recuperati dalla fauna selvatica, ma che non possono essere reintrodotti per vari motivi. Abbiamo delle strutture per la fase preliberatoria di altri animali che poi invece verranno reintrodotti in natura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.